All'inizio era il buio, il nulla, l'altissimo, profondissimo, caotico, nulla. Nacquero i titani e le titanesse. Gli uomini si dicevano tali nell'antica Grecia perché erano mangiatori di pane, bevitori di vino e conoscevano la legge dell'ospitalità. Poi fu solo un battito d'ali. Le erbie veloci raccolsero il cuore e il corpo. Grazie.